ciao a tutti ragazzi e benvenuti al mio nuovo video nostro io sono gabry e io sono sanghi e questo è mai una gioia e oggi parleremo del mondo di don't starve together dove l'unica certezza è che qualunque cosa incontriate vuole ucciderli e soprattutto se una cosa può andare male andrà sicuramente peggio eccoci qui con la seconda parte sui cibi oggi esploreremo una selezione di pietanze che possiamo preparare nel crock pot e che ci saranno molto utili o perché danno grossi bonus o perché hanno caratteristiche particolari esempio ingredienti strani o bonus extra recuperiamo quindi la nostra talk e sotto con le ricette cominciamo quindi dal turkey dinner una ricetta vecchia ma sempre utile che facciamo con due cosci di tacchino una carne qualsiasi e un vegetale che ci darà 75 di stomaco 5 di sanità mentale e 20 di vita un'altra ricetta vecchia è il guacamole che facciamo con una talpa viva mi raccomando un cactus o avocado sì sì proprio un avocado e due riempitivi fra vegetali ghiaccio o rametti e ci darà 37.5 di stomaco 0 di sanità e 20 di vita che c'entra la talpa ignorante in inglese la talpa si chiama mole vabbè torniamo noi e continuiamo con i peperoncini stufati un peperoncino una carne e due riempitivi non animali né rametti che ci daranno 25 di stomaco meno 5 di sanità perché piccano 30 di salute e ci aumenteranno la temperatura di 15 gradi in 15 secondi sempre perché sono piccanti ma passiamo ora ai piatti di pesce iniziando dai fishtick con un pesce qualsiasi un rametto e due riempitivi non mais né rametti che ci daranno 37.5 di stomaco 5 di sanità e 40 di vita perché no il mais penserete beh perché con quello ci facciamo i fishtaco con un pesce un mais e due riempitivi se usiamo i rametti mettiamocene due o potremmo tenere i fishtick che ci daranno 37.5 di stomaco 5 di sanità e 20 di vita sai che sono meglio gli spirini vero beh allora smettila di coltivare il mais che cacchio passiamo ora alle ricette putenti iniziando dal surf and turf una carne di mostro o grande e tre bocconi di pesce o due carne di mostro e due pesci grandi o anguille guarda che con due cibi mostruosi ti viene la monster lasagna e invece no infatti il surf and turf è uno dei pochi piatti che se ne sbatte di questa regola io studio quando devo fare un video sai e comunque pure forte infatti ci ridà 37.5 di stomaco 33 di sanità e 60 di vita con le anguille possiamo anche fare gli unaghi infatti si fanno con un anguilla un lichene o alga e due riempitivi anche qui potremmo mettere più cibi mostruosi e ci danno 18.75 di stomaco 5 di sanità e 20 di vita a parità conviene il surf and turf comunque ah già le anguille possiamo pescarle nei laghetti del sottosuolo e solitamente vicino troveremo anche i licheni cominciamo quindi coi piatti gourmet e prepariamoci una zuppa di aragosta con un aragosta un ghiaccio e due riempitivi un'altra ricetta che accetta più cibi mostruosi l'ultima oggi e ci da 25 di stomaco 10 di sanità e 60 di vita e se ci è garbata la zuppa o come ci garberà la lobster dinner con un'aragosta un burro e due riempitivi non carne né pesce o ghiaccio o diventerà una zuppa e avremo questo fantastico piatto che ci dà 37.5 di stomaco 50 di sanità e 60 di vita anche l'aragosta potremmo facilmente pescarla vicino alla sua tana durante la sera o la notte procurarci il prossimo ingrediente sarà un po più complicato ma con un rasoio un ponte di barche e l'aiuto delle tenebre potremo averne quanto ne vogliamo ovviamente stiamo parlando delle cozze con esse potremmo farci le teste di pesce una cozza due bocconi di pesce o un pesce grande e riempitivi non verdure e ci daranno 75 di stomaco 0 di sanità e 20 di vita oppure i barnacorn inghiri con una cozza un uovo un'alga non secca e riempitivi e ci dà 37.5 di stomaco 5 di sanità mentale e 40 di vita o ancora le linguine che facciamo con due cozze due verdure e ci danno 75 di stomaco 20 di sanità e 10 di vita ora che abbiamo assaggiato ogni genere di animale che cammina striscia nuota o vola in questo gioco passiamo ai piatti esclusivamente vegetali per rinfrescarci il palato cominciamo con una salsa fresca un pomodoro una cipolla e due riempitivi ghiaccio frutta che ci danno 25 di stomaco 33 di sanità e 3 di salute oppure un frullato vegetale con un asparago pomodoro un ghiaccio e due verdure e ci dà 25 di stomaco 33 di sanità mentale e 3 di vita paro paro la salsa continuiamo con un purè di patate due patate un aglio e un riempitivo non carne o rametti che ci dà 37.5 di stomaco 33 di sanità e 20 di vita una bella insalata di fiori di cactus con un fiore di cactus due verdure e un riempitivo verdure o ghiaccio che ci dà 12.5 di stomaco 5 di sanità e 40 di vita arriviamo quindi ai dessert con una macedonia di frutti 3 frutti non bacche e un riempitivo rametti o ghiaccio che ci dà 25 di stomaco 5 di sanità e 20 di vita o qualcosa di dolce come i biscotti di zucca una zucca 2 mieli e un riempitivo che ci daranno 37.5 di stomaco 15 di sanità e 0 di vita ma la regina dei dolci è sicuramente la dragon pie cara vecchia dragon pie la facciamo con un dragon fruit e 3 riempitivi non animali mandrake o asparghi e ci dà 75 di stomaco 5 di sanità e 40 di vita a questo punto la ricetta del limoncello c'è? infine per i più piccoli o per chi soffre il caldo abbiamo il banana pop con una banana, un ghiaccio, un rametto e un riempitivo non carne né pesce e ci dà 12.5 di stomaco, 33 di sanità e 20 di vita e farà scendere la nostra temperatura di 10 gradi in 10 secondi oppure il ghiacciolo di anguria con un anguria, un ghiaccio, un rametto e un riempitivo frutta, ghiaccio o rametti e ci dà 12.5 di stomaco, 20 di sanità e 3 di vita anche questo diminuirà la temperatura di 10 gradi in 10 secondi ora un ingrediente strano la carne fogliosa carne fogliosa? che vuol dire carne fogliosa? o è carne o è verdura? è boh diciamo che a seconda di come si sveglia la mattina decide se essere carne o verdura insomma è indecisa comunque viene prodotta dalle lureplant una maledizione che ci colpirà in primavera ma che possiamo sfruttare a nostro vantaggio infatti piantando questi bulbi su una barca o sul terreno roccioso eviteremo che sponino gli occhietti tanto pericolosi e potremo avere la nostra piantagione di carne fogliosa ma allora esiste davvero l'albero delle bistecche? sì con questo ingrediente potremo preparare il bifi green una carne fogliosa e 3 verdure che ci dà 75 di stomaco, 5 di sanità e 40 di vita o i veggie burger una carne fogliosa, una cipolla, una verdura e riempitivo che ci danno 37.5 di stomaco, 33 di sanità e 30 di vita o ancora la jelly salad con 2 carne fogliosa e 2 miele e ci dà 37.5 di stomaco, 40 di sanità e 0 di vita queste 3 ricette sono molto importanti perché anche Wigfried può mangiarsele e ristabiliscono un sacco di sanità mentale quindi forse abbiamo una risposta la carne fogliosa è carne se saremo così coraggiosi da affrontare la biquin e sopravvivere per farci una guida raccontarlo agli amici oltre all'utilissimo bundling wrap otterremo anche della royal jelly con questo ingrediente unico potremo preparare i jelly beans una royal jelly e 3 riempitivi miele, vegetali o chiaccio ogni preparazione ci fornirà 3 vasetti di caramelle mangiandoli ci daranno 0 di stomaco, 5 di sanità e 2 di vita e 120 di vita in 2 minuti ciascun vasetto per concludere tocchiamo un argomento particolare i cibi preferiti ogni personaggio infatti ha il suo cibo preferito come possiamo vedere che consumandolo gli darà 15 di stomaco extra ogni personaggio eccetto il nostro chef preferito ovviamente e ovviamente il più sfigato di tutti Wes ha come cibo preferito un piatto che può fare solo Worley mi dovremmo mettere la sua faccia come logo del nostro canale Wes maina gioia e con questo concludiamo il video ma non l'argomento che termineremo nella prossima guida dove esploreremo le pietanze uniche di Worley i suoi aggeggi per la cucina e soprattutto i condimenti e da maina gioia è tutto spero che questa guida vi sia stata utile speriamo grazie della visione se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace se non vi è piaciuto non mi piace magari un commento in proposito così potremo migliorare i contenuti del nostro canale se avete paura che tutte le vostre ricette diano sempre monster lasagna l'unico modo per evitarlo è iscrivervi al canale e cliccare la campanellina per rimanere sempre aggiornati ci vediamo al prossimo video e mi raccomando non morite di fame anche se con tutto quello che abbiamo mangiato mi sembra difficile